in quel tempo disse gesù ai suoi discepoli in verità in verità io vi dico voi piangerete e gemerete ma il mondo si rallegrerà voi sarete nella tristezza ma la vostra tristezza si cambierà in gioia la donna quando partorisce è nel dolore perché è venuta la sua ora ma quando ha dato alla luce il bambino non si ricorda più della sofferenza per la gioia che è venuto al mondo un uomo così anche voi ora siete nel dolore ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia quel giorno non mi domanderete più nulla che la natura si trasformi e che dalla morte nasca la vita è fatto innegabile la natura è la creazione di dio dio vide che era cosa buona e dentro questa bontà dio ha innestato i vari passaggi dalla morte alla vita così ogni cosa ogni creatura muore e rinasce oggi nel vangelo gesù ci fa fare un passaggio in più ascoltiamolo voi sarete nella tristezza ma la vostra tristezza si cambierà in gioia attenzione a questa finezza gesù non dice che dopo un periodo di tristezza tornerete ad essere contenti questo sta nell'ordine delle cose di cui sopra gesù sostiene che l'elemento tristezza si cambierà in gioia ora qui sorge un problema teologico non da poco può ciò che è male trasformarsi in bene sappiamo che la tristezza è male addirittura nella chiesa orientale considerato un vizio capitale l'ottavo vizio è un'arma micidiale nelle mani del demonio una freccia infuocata direbbe san paolo come può quindi questo vizio tramutarsi in virtù come può questa freccia puntata e scoccata contro il cuore dell'uomo per appassirlo possa trasformarsi proprio dentro il cuore in un germoglio di pace mi viene distinto alla mente quel fioretto di san francesco dove il poverello d'assisi per vincere una tentazione si gettò nudo nel roveto e questo si trasformò in un roseto però ancora qualcosa non mi torna mi viene allora in aiuto un altro san francesco san francesco di sal con il suo capolavoro di spiritualità la filotea al capitolo dodicesimo della quarta parte scrive così c'è una tristezza secondo dio e una secondo il mondo dice san paolo la tristezza quindi può essere buona o cattiva dipende dagli effetti che produce noi è certo che ne fa più di cattivi che di buoni perché di fatti i buoni effetti sono soltanto due la misericordia e la penitenza quelli cattivi invece sono sei l'angoscia la pigrizia lo sdegno la gelosia l'invidia l'impazienza il che ha fatto dire al saggio la tristezza ne uccide molti e non giova nulla infatti contro due solo rigagnoli buoni che zampillano dalla sorgente della tristezza ce ne sono sei di cattivi però anche le armi del maligno possono portare frutti di bontà e questo è meraviglioso tutto proprio tutto anche la tristezza conserva intatta una particella di bontà e a questo punto mi è chiaro che la tristezza si trasforma in gioia perché in sé potenzialmente portatrice di misericordia e di penitenza allora che sia vera la teoria di origine padre della chiesa circa l'apocatastasi cioè che il diavolo possa ritornare buono anche in lui c'è una particella di bontà ma qui mi fermo non saprei come rispondere a dio lardo a sentenza ecco a proposito del capitolo sulla tristezza di san francesco di sal lo trovate oggi sulla home e nel menu a tendina tra i link interessanti